Questo è il nuovo Deuter Track 5, uno zaino da trail running veramente molto leggero di cui adesso vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Inizio subito raccontandovi due aspetti che più ho apprezzato di questo zaino da trail di Deuter, ovvero la sua traspirabilità e la sua stabilità. Iniziando dalla traspirabilità, questo zainetto è fatto completamente in mesh, super traspirante. Io l'ho utilizzato in delle giornate molto calde e soprattutto molto molto afose e devo dire che era veramente tanto tanto traspirante. Cioè si suda perché quando si suda si suda, però lui fa passare molto bene il sudore e questo farà sì che non avremo mai quella sensazione di bagnato addosso. Da questo punto di vista devo dire che il materiale con cui ho fatto è veramente molto traspirante e mi è piaciuto tanto. Allo stesso modo poi essendo un mesh tecnico è anche abbastanza stretch. Quindi da questo punto di vista lui si adatta molto bene alle forme del nostro corpo, anche perché essendo disponibile poi in varie taglie lui non ha bisogno di tantissime regolazioni. E dal punto di vista della stabilità vi assicuro è veramente tanto tanto stabile. Anche correndoci a dei ritmi levati, su dei sentieri belli tecnici, su dei sentieri magari molto sconnessi, devo dire che la sua stabilità è sempre ottima. Questo è garantito soprattutto da parte anteriore grazie alla chiusura ventrale. Una chiusura fatta molto bene con un doppio elastico. Questo tipo di chiusura mi piace sempre perché è davvero tanto fissa e soprattutto nel lungo ci dà modo sia di poter respirare quando andiamo ad ingrossare il torace, sia di restare sempre ferma anche nei punti più tecnici. Parlando invece di quelle che sono le caratteristiche di questo zaino in seconda parte anteriore, perché qui troviamo abbastanza tasche. Sullo spallaccio di destra troviamo una prima taschina nella parte inferiore chiusa da zip dove poter riporre qualche oggetto volente nero al sicuro. Due taschine nella parte superiore dove poter riporre qualche barretta, qualche oggettino, che però non sono chiuse. E poi la classica tasca superiore dove andare a porre la nostra soft flask da 500 ml. Le stesse identiche tasche poi le troviamo anche sullo spallaccio di sinistra. Quindi nella parte bassa la stessa taschina con zip, due tasche aperte e la tasca per la soft flask. Devo dire che da questo punto di vista il materiale ce ne sta abbastanza. È sicuramente una notazione molto basic, non è nulla di troppo studiato, nulla di troppo articolato, però è sicuramente quel essenziale che però torna sempre comodo. Da questo punto di vista devo dire che non ho sentito la mancanza di taschine in più o comunque cose più articolate. Per quanto riguarda la parte posteriore, questa è divisa in tre, perché abbiamo appena dietro la schiena la possibilità di inserire la nostra vescica, con la possibilità di far uscire la pronga sulla parte anteriore per bere. E poi abbiamo la tasca principale dello zaino. Una tasca appunto da 5 litri dove poter andare a mettere tutto il necessario. E devo dire che essendo poi anche lei in tessuto elastico, ci si può sfastare qualcosa in più. Diciamo che se doveste trovare anche qualcosa sul sentiero che vi serve da portare a casa, ecco che magari uno spaziato in più lo si trova. Infine nella parte inferiore presenta una tasca aperta sui lati, dove poter inserire per esempio dei bastoncini oppure una giacca impermeabile. Anche nella parte posteriore devo dire delle ottime tasche, molto semplici però anche qua quel minimal che ci piace. Per quanto riguarda invece i bastoncini possiamo andare a riporre o nella parte anteriore anche se non sono molto comodi, oppure io li ho utilizzati molto bene andando a riporre nella parte posteriore. Questo perché in dotazione con lo zaino vengono dati una serie di cordini che ci permettono un po' di andare a agganciarli un po' dove vogliamo. Però penso che nella parte posteriore sia il punto migliore, anche perché così evitiamo che sballonzolino e soprattutto non li abbiamo vicini al corpo che ci danno fastidio. A livello di materiali poi devo dire che questo mesh è fatto molto bene. È abbastanza classico però io ho avuto modo di poterlo utilizzare anche in mezzo a dei rovi e da questo punto di vista non ho avuto nessuno strappo. Quindi sicuramente un mesh abbastanza duraturo. Uno zaino che sicuramente ci permetterà di poterlo essere utilizzato anche abbastanza nel tempo. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Deuter Trek da 5 litri. Innanzitutto Deuter lo vende a 125 euro, l'aelo si trova anche a meno. Esiste anche la versione più grande per chi vuole qualcosa di più grosso ed anche le versioni da donna chiamate SL. Ecco che lui è uno zaino anche abbastanza leggero perché parliamo di 165 grammi nella taglia M. È uno zaino che vi consiglio se state cercando un qualcosa per fare delle gare medio-corte diciamo che io non mi spingerei magari oltre 50 km poi naturalmente dipende sempre quanto è grossa l'attrezzatura che dovete metterci all'interno però è sicuramente uno zainetto che potete utilizzare benissimo per fare anche delle gare abbastanza lunghe, quello senza nessun problema. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente sostitivo anche per questa recensione vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!